Grazie, è scritto a parlare il deputato Sibilia a titolo personale. Grazie Presidente, io vorrei dare un significato a questa discussione. Noi stiamo votando per uscire dall'Afghanistan, una guerra della quale abbiamo dato tutti i dati per definire una guerra inutile, ingiusta e che fa sprecare risorse. Allora voglio capire dove stanno i renziani, cosa pensano i renziani del nuovo, del vuoto che avanza, dove sta Civati, Civatiani, quelli là del vorrei ma non posso, Cuperlo, dove sta? Se il PD si deve rinnovare, cominciasse da adesso, facesse vedere al Paese che si sta rinnovando, se solo uno delle persone che ci sta guardando mi dicesse che è a favore alla guerra in Afghanistan, allora io voterei a favore per restare. Però la verità è che questo Paese non ci vuole stare. Allora qui dentro, ma chi stiamo rappresentando, signori? Chi rappresentate?